Il caro energia, l'aumento del costo delle materie prime, poi il rialzo dei tassi di interesse. Per le imprese le difficoltà legate ai costi di produzione e alla domanda di credito continuano ad essere un problema. Dopo la crisi energetica, il rialzo dei tassi ha frenato la domanda di credito presentata dalle imprese italiane nel primo trimestre, con un meno 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Viceversa, l'importo medio è cresciuto del 27,8%. Eppure, numeri alla mano, l'Italia è la locomotiva economica dell'Europa. Nel nostro paese il PIL cresce più di quello di Germania e Francia nel 2023. La situazione generale è una situazione che ci presenta un quadro ancora positivo. La capacità delle nostre imprese ad affrontare problemi e di trovare quelli che sono le condizioni migliori per superarli si è ancora una volta manifestata. Non è un caso se a livello europeo, anche per il 2023, l'Italia si candida a essere la locomotiva d'Europa, con un PIL che ogni mese sembra incrementare il suo valore. Quindi la resilienza delle nostre imprese è ormai un fatto accertato. La capacità dei nostri imprenditori di fare impresa nella maniera più adatta al momento che viviamo è un altro aspetto ormai consolidato. Di fronte a questo si pongono dei problemi come quello appunto del caro energia, come quello legato alla difficoltà e al costo delle materie prime, come quello legato anche alla difficoltà di accedere al credito. Io penso che le nostre imprese oggi sicuramente necessitano di un'assistenza in più rispetto a prima, un'assistenza che probabilmente il nostro sistema sarà in grado di offrire come ha sempre fatto anche in passato, perché non dimentichiamo che tutto ciò che riguarda la produzione italiana ha un valore enorme. Quello del rialzo dei tassi resta però un tema sensibile perché riguarda investimenti già fatti e rischia di pregiudicare quelli futuri. L'amento dei tassi di interesse nelle imprese dal luglio dello scorso anno è aumentato di 375 punti per gli aumenti dei tassi della BCE essenzialmente. Questo comporta un aumento del costo del denaro sia per gli importi finanziati negli anni passati che per il nuovo credito che va gestito da fronte delle imprese. L'associazione si pone come consulente nel gestire il rapporto tra impresa e credito accompagnando le imprese non solo ad ottenere un nuovo credito dai canali istituzionali ma anche gestendo tutte quelle forme di investimenti agevolati che provengono dai bandi che sono gestiti sia a livello locale che a livello regionale che provengono dal nazionale o dalla comunità europea. Per questo il ruolo di confartigianata è importante per aiutare le imprese ad orientarsi nel mondo dei bandi e dei finanziamenti, strumenti ancora più importanti in un momento così difficile. L'associazione in questi anni ha compreso benissimo che non esiste una medicina per tutti i mali ma che serve una consulenza mirata, precisa, puntuale che è differenziata per ogni tipologia di impresa, per ogni tipologia di prodotto, per ogni tipologia di mercato. La capacità della nostra associazione è stata proprio quella di comprendere questo e di adeguare e far evolvere i suoi servizi e la sua professionalità in merito alla consulenza. Per attenuare questo tipo di impatto economico nei confronti delle aziende oltre ad accompagnare con percorsi finalizzati e consulenziali le aziende al credito, le possiamo accompagnare per tutti quei servizi dei crediti d'imposta che possono seguire, provenienti dalla nuova finanziaria, che comportano una riduzione dei costi operativi sia delle materie prime che del costo energie.